Oggi, 18 settembre, la Chesa Ambrosiana, nella Messa, ha questo Vangelo in cui Gesù richiama ciò che accade alla sua venuta. Leggiamo che cosa scrive il Vangelo. È Luca, capitolo 17, versetti da 26 a 33. In quel tempo, il Signore Gesù disse, come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del figlio dell'uomo. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. Come avvenne anche nei giorni di Lot, mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piove fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo si manifesterà. In quel giorno chi si troverà sulla terrazza e avrà lasciato le sue cose in casa non scenda a prenderle. Così chi si troverà nel campo non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà. Ma chi la perderà la manterrà viva. Ecco che commento faccio io oggi a questo Vangelo in cui chiaramente si annuncia che alla venuta quella attesa alla fine del tempo da parte di Gesù Cristo accadrà quella stessa fine del mondo descritta nel diluvio universale e descritta per Sodoma e Gomorra in relazione a Lot. Tutti mangiavano, bevevano, si preoccupavano della vita reale ma venne la morte. Ecco che cosa dobbiamo trarre come giudizio? Che giudizio traggo io? Io che sostengo questo. Gesù per un cristiano ritorno ritorna ad ogni battesimo che una persona affronta battezzandosi in Cristo. Ognuno di noi quando si battezza in Cristo diventa la venuta del pensiero, della fede, del valore di Cristo in un cristiano. Quindi Gesù che disse io sarò sempre con voi viene sempre nel mondo ad ogni cristiano che è battezzato. Però noi vediamo che a questa venuta non corrisponde la fine del mondo. Io in particolare però sostengo che venendo in varie forme il Signore ha assegnato a un personaggio cristiano come tutti gli altri, quindi rinato in Cristo come tutti, il compito proprio di rappresentare il ritorno reale di Cristo in una persona singola. Quando quella persona singola riprende interamente, totalmente e veramente il pensiero originario di Gesù Cristo, tanto che Cristo non solo vive in un cristiano, ma in un cristiano che ha voluto nella sua vita, espressamente come ho voluto io, dar corpo a Cristo. A me è accaduto, io me ne rendo conto e io ve lo dico. Allora è evidente che nasce in tutti voi la osservazione, ma dov'è questa fine del mondo allora che noi non vediamo? Non può essere venuto in te questo che è atteso alla fine del tempo, perché alla fine del tempo accade il diluvio universale o quella reale morte e distruzione che fu fatta nelle città che avevano perso il lume della vita secondo natura normale a Sodoma, avevano ribaltato dei valori particolari, sovvertendo in un certo senso l'ordine naturale. Ecco, io vi invito ad associare proprio queste due testimonianze a cui Gesù si è riferito. Il diluvio universale e Sodoma. Perché? Cosa hanno in comune? Hanno in comune la sovversione delle idee. Nel mondo originario prima del diluvio universale si è avvalorata totalmente la vita reale, senza nessun lancio verso il mondo del regno dei cieli. Nel riferimento preciso a Sodoma c'è una travisazione che è questa. Credere che l'uomo può, quando anche è maggioranza, decidere che cosa sia giusto o non compiere sotto il profilo degli atteggiamenti reali. Come se la verità dipendesse dal consenso umano. Ecco, questa cosa qui c'è in comune tra i due eventi. Perché a Sodoma e Gomorra non ha corrisposto la fine del mondo, ma la fine del mondo dei traviati, che in Sodoma e Gomorra ha riguardato un caso limitato. Nel caso del diluvio universale ha riguardato la totalità degli uomini. Ma se qualcosa esiste in comune tra questo atteggiamento generale e questo particolare, questo qualcosa che c'è in comune sta proprio nell'ordine delle idee. Per cui capite bene che quando è vero quello che io sostengo, che Gesù Cristo è tornato in ciascuno di noi quando si è fatto cristiano, ma che la sua verità è ritornata in uno solo, proprio per essere riaffermata con forza come quella verità che porta tutti in cielo. grazie a che cosa? Grazie al raddrizzamento delle idee. Perché se la vita è finalizzata agli atti reali della vita, allora chi è sul tetto non scende a prendersi qualcosa nel piano di sotto. Chi è in campagna non rientri in città pensando di avere bisogno di qualcosa di reale? Perché ogni cosa reale non ha più alcun valore che debba essere perseguito. Infatti chi non perde la sua vita, dice Gesù, non la conquista. Gli uomini che salvano la vita sono quelli che salvano il senso della verità. Allora capite bene che qualcosa deve accadere al ritorno di Gesù Cristo. Quello totale. Che cosa è? È quella verità che è vera davvero e non è frutto del consenso. Ho delle cattive inclinazioni e delle cattive abitudini anche quando appartengono al mondo intero, come nel diluvio universale, oppure a un mondo particolare limitato come nel caso di Sodoma e Gomorra. La verità che è confusa totalmente o parzialmente in alcune regioni è confusa perché cerca di salvare la vita. Quando ritorna veramente il pensiero di Gesù non c'è il tentativo umano di salvare la vita, quella reale, ma di salvare la vita per il senso di giustizia che essa davvero ha. Proprio dando retta a quello che disse Gesù. Chi vuole salvare la sua vita la perderà. Ma chi la perderà per aver seguito i miei insegnamenti l'avrà salvata davvero. Ecco che cosa salva dalla morte con la venuta di Gesù. Quale morte? La morte delle idee fasulle. Con la venuta di Gesù Cristo sono messe a tacere tutte le verità relative perché Gesù Cristo afferma non la verità relativa ma quella assoluta del Dio Onnipotente dicendo che sono due i regni. C'è il regno di Dio che è quello totale, della salvezza totale. E poi c'è il regno di Cesare della salvezza relativa. È il regno di Cesare che viene sconfitto. Quel regno di Cesare che fu sconfitto con il diluvio universale perché Cesare persegue il potere nel mondo reale. Allo stesso modo a Sodoma la verità e l'organismo che accetta le cose anche traviate quando appartengono a tutti possono appartenere a tutti e perdono tutti. Muoiono tutte le idee barbine quando arriva lo Spirito Santo Paraclito che salva tutti e salva davvero. Ecco cosa è questa sorta di minaccia a morte che sembra essere una minaccia a morte che richiama il diluvio universale e che richiama Sodoma e Gomorra. Non è la morte reale, è la morte dell'anima la quale quando sposa le cose del mondo e porta a uno che per perseguire le cose del mondo aspira a divenirne il padrone e lo diventa ma ha perso l'anima è andato incontro alla vera morte che è la morte dell'anima. Ecco Gesù Cristo sta parlando della morte dell'anima non quella rappresentata nel corpo è la morte di ciò che sembra essere vero ma non lo è. In che virtù io vi dico che con l'avvento del personaggio insito in me che ho cercato di dar corpo a Cristo in che senso è venuta quella verità dello Spirito Santo Paraclito che libera tutti e libera davvero? In virtù della verità scientifica la quale in relazione alla dinamica che noi vediamo in atto dappertutto che ci presenta come un divenire di un universo che era in un punto del Big Bang e si è espanso nello spazio e contratto nella durata del tempo con tutto ciò che sosteneva Eraclito come fondamento di ogni cosa il divenire di fronte a questo la verità non è questa la verità è l'essere di due opposti simultanei tra di loro e che si annullano l'un l'altro come la somma tra più uno il movimento verso destra e meno uno il movimento uguale verso sinistra. Chi vada di uno a destra e a sinistra resta nel punto zero della sua origine ma se si avvale su uno dei due movimenti come l'azione ecco che subisce la reazione uguale e contraria nel verso opposto ecco l'azione di Dio è di generale salvezza Dio ha creato solo un progetto simultaneo che esiste sia come eternità sia come totale mancanza di un prima e di un poi ebbene quando ciò è vero ma questo progetto è frutto di una azione fattiva divina subisce da parte di Dio il negare questo progetto tanto da non essere Dio stesso costretto dall'esistenza del suo progetto a darlo per scontato perché lo fa e lo disfa ecco noi vediamo il progetto che torna a zero ossia vediamo le cose fatte che ritornano al punto precedente a a quello in cui poi da lì sono parse fatte ma nel verso opposto è grazie a questo che con Dio che porta tutto al principio noi possiamo vedere la natura che fa e la vita che fa nel verso opposto a quello disfattivo di Dio e noi a questo punto vediamo realmente fatto il mondo come Dio idealmente lo ha fatto ma senza farlo facendolo e simultaneamente disfacendolo chi lo fa in relazione al disfacimento posto in essere in principio è solo l'uomo e se l'uomo vede la sua morte patisce la condanna a morte per avere travisato il senso della giustizia delle cose la giustizia delle cose porta Dio a portare nuovamente al principio senza che sia fatto tutto il suo progetto ma consente all'uomo di vederlo fatto perché l'uomo vedendolo passare vedendolo a rovescio ossia non secondo n un numero di fotogrammi che esistono tutti insieme senza nessuna differenza tra il primo fotogramma e l'ultimo perché coesistono come coesiste una pellicola solo quando questa pellicola è sottoposta a un movimento verso sinistra solo allora un osservatore la può vedere fotogramma dopo fotogramma verso destra ossia non vista tutti insieme ma un ennesimo alla volta in una serie obbligata di n ennesimi perché l'unità resta sempre data da n ennesimi è la forza dell'unità che costringe l'ennesimo a essere visto realmente in sequenza e l'uomo ottiene per effetto cinematico lo stesso risultato che ottiene quando vede un film proiettato da questa pellicola che va a zero e consente allo spettatore di vedere il film da zero verso la direzione opposta ecco la verità è che dio salva tutto se questa verità è che dio salva tutto gesù non può avere portato l'esempio di un dio che uccide sono uccise le idee barbine l'arca di noè è un luogo in cui prendono posto solo le idee di salvezza e sono salvate tutte le altre crollano così come crollano tutte le idee credute vere a sodoma perché gli uomini si erano convinti di poter decidere essi stessi quella che fosse la verità la verità appartiene solo a dio la verità appartiene a un essere che mentre esiste in positivo esiste in negativo come pura energia noi quando la vediamo in atto per vederla andare con la vita verso la morte bisogna che dico mandi verso il principio tutta la sua creazione e con la creazione che si annulla andando in principio solo così noi possiamo vedere in modo totalmente sbagliato la natura che fa e l'uomo che fa perché la natura e l'uomo sono creature di dio tutto accade grazie solo alla onnipotenza di dio e non della natura o della vita umana tutti coloro che credono nella natura e di potere decidere l'uso migliore della natura per i loro fini sono condannati a finire con queste idee berbine quando la verità che io vi sto dicendo entra in campo e tutte le altre verità relative sono annullate